Domenica il Catania ospiterà la Vibonese per la quindicesima giornata del campionato di Lega Pro Girone C. Partita dal sapore particolare per diversi elementi della squadra calabrese, che in passato hanno vestito proprio la maglia rossa-azzurra. Uno su tutti, Rocco Sabato. Il terzino sinistro, classe 1982, ritorna a Catania otto anni dopo l'ultima sua presenza con la casacca etnea. Esperienza forse più importante di tutta la sua carriera. Sabato, infatti, è stato uno dei protagonisti della storica promozione in Serie A nella stagione 2005-2006, al termine della quale passa però in comproprietà il Cesena, salvo poi ritornare nell'estate del 2007. Qui però non trova spazio, causa concorrenza di elementi quali Marchese e Vargas, fino a quando sulla panchiera del Catania non arriva Walter Zenga. L'uomo ragno, infatti, cambia modulo, sposta Vargas esterno di centrocampo e schiera Sabato nel ruolo di terzino sinistro. Ma la data che l'attuale difensore della Vibonese difficilmente dimenticherà è il 9 novembre del 2008. Al Massimino si gioca Catania contro Cagliari e il risultato, dopo 80 minuti abbondanti, è fisso sull'1-1 e si appresta a rimanere tale. Quando mancano però 4 minuti alla fine della gara, sabato si appresta a battere un calcio di punizione dal limite dell'aria, è 2-1 ed è primo ed unico gol in Serie A. Oggi il Potentino è una colonna della Vibonese e domenica tornerà da avversario allo stadio Angelo Massimino, stadio che lo accoglierà a braccia aperte.